Nel 27 partiamo con queste prime dosi che sono simboliche, stiamo aspettando dal commissario Arcuri il numero effettivo che ci arriverà settimana per settimana e la data precisa in cui ci arriveranno, perché noi siamo già pronti, non abbiamo soltanto individuato le 5 sedi predisposte ad effettuare il vaccino e a conservare il vaccino stesso, ma anche noi siamo pronti con l'infrastruttura necessaria ad aprire, potremo farlo oggi stesso l'agenda vaccinale. E' chiaro però che dobbiamo sapere quando abbiamo i vaccini. Ci dicono entro fine anno, potrebbe arrivare, però è chiaro che entro fine anno non è una data e la quantità non è altrettanto chiarissima. A noi serve sapere il 30, il 31, abbiamo i vaccini e quanti? Dobbiamo saperlo qualche giorno prima, così da aprire appunto l'agenda vaccinale per mettersi da quella data di iniziare a far sì che le persone possano prenotarsi e venire a fare il vaccino. Grazie